L'innovativa tecnologia VEA pinze di serraggio ha rivoluzionato la tecnica dei collegamenti e fa risparmiare tempo e costi. Non occorre alcun avvitamento manuale, nessun ausilio di tenuta o nastri teflon supplementari. Il collegamento a tenuta di pressione si realizza con una semplice e breve azione manuale, come spostare una staffa di azionamento, fare avanzare una ghiera o manovrare una leva di serraggio. Le pinze di serraggio brevettate VEA fanno sicura presa nel o sul filetto del pezzo di collaudo, indifferentemente dal tipo di azionamento utilizzato. Sono insensibili allo sporco e per la ridotta pressione superficiale l'usura del pezzo di collaudo è minima. Anche con attacchi per tubi e flessibili, come anche con fori, le pinze di serraggio VEA fanno sicura presa nel o sul diametro di tubi e flessibili. È a disposizione una vasta scelta di adattatori VEA con meccanismo a pinze di serraggio per tubi con le più diverse estremità, come collarini, gole, ogive o tubi lisci, e tubi nei materiali più diversi, come rame, acciaio, alluminio, ecc. Gli adattatori VEA con l'innovativa tecnologia a pinze di serraggio realizzano alla velocità di secondi un collegamento a prova di funzionamento e pressione e risparmiano le articolazioni dell'utilizzatore, in quanto si può rinunciare a gravose avvitature e svitature. Si riducono così i tempi di collegamento, si aumenta la produttività e si risparmia su tempo e costi. Grazie.